buongiorno buongiorno a tutti benvenuti bentornati allora solare oggi è un giorno di festa primo novembre ogni santi quella festa che unisce cielo e terra siete a casa siete con le vostre famiglie forse siete da soli insomma però noi vogliamo tenervi compagnia in una maniera più speciale ancora che negli altri giorni parlando proprio di questa festa della festa di ogni santi per capire chi siano i santi come come sia giusto festeggiare questo giorno ringraziamo tantissimo del suo tempo monsignor alberto roio mechia grazie di essere con noi promotore della fede del bicastero delle cause dei santi e già solo questo mi dovrei alzare in piedi ma rimango seduta allora monsignore grazie lo ripeto ancora una volta il suo ruolo all'interno del bicastero qual è dunque quello di come hai detto bene di promotore della fede si chiama anche prelato teologo e una volta si chiamava popolarmente anche se non era così non è mai stato chiamato così ufficialmente ma si chiamava diciamo l'avvocato del diavolo quando noi sentiamo dire l'avvocato del diavolo si rifà al suo ruolo chiaramente il diavolo non ha bisogno di avvocati però lei è la persona che si non non mi paga il diavolo veramente non sono più che sicuro diciamo però una causa di santità comporta appunto una bisogna scomporre la vita di colui che dovrà o con lei che dovrà diventare santo analizzando proprio tutto si guarda un po il termine un promotore della fede quello un po più chiaro nel senso che beh quando si promuove una causa di canonizzazione si promuove la fede perché perché i santi aiutano la fede di tutti e quindi tutti coloro che partecipano in una causa promuovono anche la fede in quel senso ma c'è un ruolo concreto che quello mio di arrivata alla causa a un certo punto in cui tutte tutti gli aspetti formali sono stati studiati a me tocca un po dirigere lo studio del contenuto della causa in quel senso promotore della fede perché perché si promuove la vera santità che non si promuove una santità con poche prove una santità finta una santità che insomma che che non sia vera che non sia quella o che non sia adeguata per i nostri tempi che non sia giusta e allora in quel senso promotore della fede quello è il mio ruolo si lei studia tanto tantissimo è arrivato fino a questo ruolo insomma non è un ruolo che si conquisti ma è un tema bellissimo si studia volentieri perché si studia anche l'animo umano no e si si studia la profondità dell'anima umana una cosa allora tra poco noi ascolteremo le parole del papa di papa francesco in occasione del convegno promosso dal di castero delle cause dei santi risale al 6 ottobre del 2022 il santo padre in quell'occasione ha detto è necessario un discernimento saggio e perspicace di tutti coloro che si occupano della qualità della fama di santità perché non si viene fatti santi in un giorno voglio dire c'è una c'è un cammino anche proprio no si guarda un po quello che ha detto il papa di la fama di santità è importantissimo perché oggigiorno con le reti sociali con i mass media è possibile creare una fama finta di santità e un personaggio un certo personaggio dire che era santo e poi non lo era per quello il papa insiste il motore di una causa di canonizzazione deve essere una fama spontanea e vera di santità una fama spontanea e vera di santità servi di dio poi venerabili io cito e leggo beati quando si dice la beatificazione e poi santi l'arrivo la santità e e si parla del miracolo no del anche della prova dell'avvenuto miracolo per arrivare ad avere il titolo di santo si è il dito di si è la risposta di dio perché alla fine un processo di canonizzazione è un'inchiesta umana e noi possiamo arrivare a un parere anche con una certezza morale però che un parere umano allora ci vuole un po l'aiuto del signore la sua firma è lui che dice sì è proprio questo che io voglio che sia proposto al popolo di dio e monsegnore lo stesso miracolo che noi noi umani noi persone di fede attendiamo no come poi parleremo anche di questo il miracolo a volte un modo di dire non un modo di dire non dice un miracolo quello che è avvenuto però voi studiate quei miracoli che sono che arrivano tramite la figura dei santi ma anche lì arrivano attraverso attraverso l'aiuto di dio perché è certo è l'unico che può fare dei miracoli guarda dei miracoli si può parlare in modo semplice come cose meravigliose di cui non sappiamo la ragione ma per le nostre cause ci vuole qualcosa di più deve essere ad esempio una guarigione che i medici un gruppo grande di medici dicano assolutamente che è inspiegabile scientificamente quindi ci vuole un rigore speciale perché perché sì sì perché qua giochiamo anche con la scienza e quindi non possiamo scherzare ecco monsignore il giorno del il giorno di ogni santi dice tutto e non al tempo stesso racchiude un calendario intero e una quantità di storie infinita perché lo dicevamo poco prima dell'inizio della trasmissione i santi erano uomini e donne persone anche della porta accanto poi parleremo anche di questo no in ogni epoca c'è persone la cosa più bella che sono dei nostri dei nostri sono dei nostri sono della nostra famiglia cioè non è che celebriamo gente buona così che per noi è lontana o comunque strana no sono dei nostri sono i nostri fratelli le nostre sorelle noi siamo di quella famiglia quel senso della festa quelli santi celebrare quelli della nostra famiglia che sono arrivati alla santità allora guardate facciamo una cosa noi ci fermiamo soltanto per un attimo chiedendo come sempre la vostra attenzione perché il tema è bellissimo io ringrazio monsignore perché ovviamente sarebbe un tema anche da anzi soprattutto da affrontare in termini ancora più ampli però noi lo facciamo prendendo posto a tavola a casa vostra se ci date un posticino a tavola noi stiamo in vostra compagnia in questo primo novembre ogni santi all'ora solare ci vediamo tra un'ora ben tornati all'ora solare primo novembre festa di ogni santi ci dedica tempo e lo ringraziamo tantissimo monsignor alberto roio mechia promotore della fede del vicastero delle cause dei santi allora monsignore ascoltiamo insieme papa francesco 2 febbraio del 2022 catechesi su san giuseppe e sulla comunione dei santi sul quale sulla quale un sacco di domande da farle ascoltiamo ascoltiamo il santo padre noi i santi non operano i miracoli ma soltanto la grazia di dio che agisce attraverso loro i miracoli sono stati fatti da dio dalla grazia di dio che agisce tramite attraverso una persona santa una persona giusta questo avere chiaro c'è gente che dice io non ci credo a dio ma non so ma credo in questo santo no è sbagliato il santo è un intercessore uno che prega per noi e noi lo preghiamo e prega per noi il signore ci dà la grazia il signore tramite il santo allora allora monsignore è il signore tramite il santo lei questo ce lo spiegava e lo diceva ed è una cosa importante da capire da comprendere no già però quando si riceve un miracolo forse è tanto il lo stupore la commozione la gioia la la tutto che si finisce per no per dare subito il segno e segnale alla persona che abbiamo pregato persona lo ribadiamo ancora una volta quando si parla di comunione dei santi la sentiamo nominare spesso anche da bambini quando siamo in chiesa quando facciamo catechismo che cos'è la comunione torniamo lo stesso che ti ho detto prima la famiglia la comunione dei santi vuol dire che siamo una famiglia quelli che siamo sulla terra quelli che si stanno preparando chiamiamo la chiesa purgante che si preparano per il paradiso e quelli che sono ormai in paradiso e siccome siamo una famiglia ci amiamo c'è quell'unione dell'amore che va al di là della morte e quindi quelli del paradiso ci amano e si prendono cura di noi e noi preghiamo per quelli che sono in preparazione si stanno preparando per quelli del purgatorio insomma la chiesa purgante invece quelli del cielo non hanno bisogno delle nostre preghiere anzi loro si prendono cura di noi e l'amore di una famiglia l'amore di una famiglia e quando pensiamo ai santi pensiamo torno a quel modo di dire no quando di una persona bella cara che non reagisce mai in malo modo che è sempre disponibile per tutti che è sempre aperto al sorriso parleremo anche del sorriso si dice ma quello è un santo allora togliamo ovviamente del fatto di parlare del nostro amico più caro ma le virtù eroiche perché esistono delle virtù eroiche nei santi se no come si suol dire santi non li facevano e quali sono dunque detto così virtù eroiche può sembrare una cosa strana e si può usare come sinonimo pienezza di virtù il termine eroico vuol dire che hanno bisogno dell'aiuto dall'alto perché gli eroi dell'antichità facevano delle cose grandissime ma sempre con l'aiuto delle delle divinità dell'antichità non lo facevano mai da soli e quindi eroico vuol dire che c'è bisogno dell'aiuto dall'alto la virtù in pienezza noi non la possiamo raggiungere da soli abbiamo bisogno dell'aiuto dello spirito santo quello vuol dire l'eroicità bellissima questa cosa stiamo imparando tutti noi un tante tante cosa la ringraziamo anche perché insomma ribadiamo saper spiegare le cose più difficili in maniera semplice proprio delle persone che le conoscono molto molto bene la devozione che noi abbiamo verso un santo papa francesco l'ha appena detto non si può dire non credo in dio ma credo in quel santo io a roma ho visto gente che dice non credo in dio ma credo in papa giovanni o credo in san filippo neri nel centro di roma lì o anche addirittura non credo in dio ma credo in padre pio si queste cose capitano succede no di sentirsi dire questo al netto di questo quando invece noi ci affidiamo di più ed io cerco di parlare in punta di forchetta di più ad un santo no cioè siamo più abituati a pregare quel santo quella santa perché ce l'hanno insegnato da bambini perché perché ci viene più diretto più spontaneo e lo possiamo fare una cosa corretta è certo ma facciamo così perché sentiamo la loro vicinanza il dio infinito invisibile veramente il dio che ci prende cura di noi ma noi non lo vediamo il signore jesu cristo conosciamo la sua vita dal nuovo testamento ma sempre diventa lontano anche se dovrebbe essere un amico normale di ogni giorno però i santi i santi sono quelli che noi abbiamo visto con i nostri occhi guarda c'è una cosa eravamo abituati ai santi nei quadri poi abbiamo visto i santi nelle fotografie bianco e nero poi abbiamo visto i santi nelle fotografie a colori adesso vediamo anche i santi nei filmetti di video anche su youtube vediamo i santi dei tempi nostri moderni e questa è una bellezza sono vicini a noi questa è una bene questa è una cosa bellissima che lei ci dice allora papa francesco nell'esortazione apostolica cristus vivit frutto del sinodo dei giovani ci ricorda questo sono le parole di papa francesco quelle che ora vi leggo il cuore della chiesa è pieno anche di giovani santi che hanno dato la loro vita per cristo molti di loro fino al martirio sono stati preziosi riflessi di cristo giovane che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza allora vediamo è un minuto e 17 secondi non abbiamo visto rivisto in redazione siamo contenti di mostrarvelo così san sebastiano era un giovane capitano della guardia pretoriana parlava di cristo dappertutto e cercava di convertire i suoi compagni fino a quando gli ordinarono di rinunciare alla sua fede poiché non accettò gli lanciarono addosso una pioggia di frecce ma sopravvisse e continuò ad annunciare cristo senza paura alla fine lo frustarono fino ad ucciderlo san francesco d'assisi rinunciò a tutto con gioia ed è il santo della fraternità universale il fratello di tutti che lo dava al signore per le sue creature morì nel 1226 san domenico savio offriva a maria tutte le sue sofferenze quando san giovanni bosco gli insegnò che la santità comporta l'essere sempre gioiosi aprì il suo cuore ad una gioia contagiosa morì nel 1857 dicendo che meraviglia che sto vedendo santa teresa di gesù bambino nacque nel 1873 all'età di 15 anni superando molte difficoltà riuscì ad entrare in un convento carmelitano visse la piccola via della fiducia totale nell'amore del signore proponendosi di alimentare con la sua preghiera il fuoco dell'amore che muove la chiesa grazie a virginia ciaroni che ha curato hai visto quello che dicevo abbiamo visto i quadri le fotografie in bianco e nero ma poi ci sono tanti santi più attuali più vicini a noi io vado e cito chiara corbella chiara luce badano poi faccio un salto indietro e penso a chiara di assisi a santa chiara questa ragazza che lascia tutto sì a me piacciono queste tre chiare chiara d'assisi è molto sconosciuta perché sembra una santa molto dolce che insomma ammirava san francesco poi entrata nel monastero ma chiara è una donna forte coraggiosa ha lottato tutta la sua vita per difendere il suo carisma ha lottato contro monsignori contro altri altri prelati è andata direttamente al papa perché voleva difendere la povertà e soltanto nel momento della sua morte nel letto di morte è riuscita ad avere il permesso per vivere la povertà come lei voleva era era un generale chiara era veramente una donna dovete anche immagino dobbiamo tutti noi immaginarla in quell'epoca no santa teresa con quella faccia da bambina che sa il fatto suo insiste pur di riuscire ad entrare in un monastero ma è già un tempo diverso eppure ci sembra un tempo in cui pochi diritti avevano le donne anche di esprimere la propria fede chiara d'assisi sì sì no veramente non la fermava nessuno non la fermava nessuno i genitori di teresa di lisie sono anche se bellissimo perché è stato il primo matrimonio che è stato canonizzato come matrimonio perché matrimoni santi nella storia ne abbiamo tanti ma è stato canonizzato così e poi la cosa bella che un matrimonio normale hanno avuto tante figlie come sappiamo tra di loro santa teresa il padre nella vecchiaia sai che ha perso ha perso la testa aveva una sorta di demenzia è stato dovuto cioè l'hanno dovuto anche rinchiudere in un istituzione questo ha fatto soffrire tantissimo teresa che era la sua figlia prediletta però è bello perché matrimonio che non ha fatto niente di speciale poi anche lui nella malattia anche nella malattia mentale che quella più terribile perché le malattie siamo abituati ma le malattie mentali non siamo abituati tutti fuggono e invece si è santificato malgrado quella malattia mentale e poi hanno allevato ecco queste figlie meravigliose quindi un matrimonio normale questa è la bellezza una causa di canonizzazione ma ancora avrei ancora un milione di domande da farle ma giuro di essere sintetica quanto tempo può durare ovvero esiste una un tempo o ogni causa al suo di tempo ogni causa al suo non c'è non c'è un tempo fisso una cosa è una causa di martirio che di solito vanno più rapide e un altro caso e delle virtù perché ci vogliono più testi più prove cioè provare un martirio una cosa puntuale che è successo un giorno concreto invece provare tutta una vita di virtù e ci vogliono più prove allora diventa più lungo il suo lavoro diventa ancora più lungo come celebrare questa giornata e soprattutto con grandissima gioia che poi è quello che ci trasmettono i santi dicevano i classici diceva sant'ommaso d'aquino che la conseguenza della virtù e la gioia della vera virtù e la vera gioia non una gioia che passa che oggi sei contento e domani ti passa perché è passata la festa è una gioia profonda e allora quel loro ci trasmettono quella gioia cioè la bellezza di essere cristiani allora noi abbiamo ricevuto questo messaggio da loro direttamente e il penso che loro saranno contenti se noi celebramo la loro festa appunto con quella gioia con quella gioia anche perché la gioia è un tratto distintivo dei santi no la gioia proprio la gioia intesa come l'allegria per allegria si intende quella quando si dice che una persona è appunto non non lo sai quel detto no un santo triste un triste santo che vuol dire che allora un'ultima domanda sono perfettamente d'accordo con lei un'ultima domanda noi diciamo o meglio sentiamo dire e conosciamo il concetto di canonizzazione e non santificazione è sbagliato quello che dico cioè quando santificazione è quello che fa lo spirito santo nella nostra vita ci santifica canonizzazione è un atto formale canonico che lo fa il papa di proclamare la santità di una persona e permettere il culto per tutto il mondo per la chiesa universale quindi il termine giuridico e canonizzazione però il termine spirituale e che è lo spirito che si santifica monsignor alberto roio mechia un'ultima domanda quando lei arriva a mettere la parola o meglio a dire è così è santo o è santa no 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 aspetti aspetti nel suo cioè nella parte che è dedicata al suo lavoro lei a un certo punto chiude il faldone e dice a dire va bene va bene questo a questo voleva arrivare prova una speciale felicità sì come no come no certo la vita di un uomo di una donna si è trasformata in si impara tanto dalle vite dei santi ma da quelle vere le vite dei santi in cui si vedono i loro difetti le loro sofferenze i loro travagli si impara tantissimo si impara tanto umanità e lei ce ne ha ce ne ha regalato una fetta oggi grazie grazie di essere stato con noi